Cari connazionali, sono lieto di rivolgermi a tutti gli ascoltatori di radiocom.tv in occasione della nascita di questa nuova emittente online che vede la luce grazie alla collaborazione tra il Ministero degli Esteri, il Comitato per gli Italiani all'estero di Bruxelles, Brabante e Fiandre e alcuni enti locali italiani. Sono certo che la sua programmazione arricchirà le azioni di sostegno agli italiani all'estero, contribuendo a rafforzare il loro legame con l'Italia. Più di 6 milioni di italiani sono oggi residenti all'estero cui si aggiungono oltre 80 milioni di persone di origini italiane. Rappresentano un patrimonio inestimabile di saper fare italiano in ogni settore commerci, cultura, ricerca medica e scientifica, enogastronomia. Anche grazie al coinvolgimento di tutte queste nostre comunità la Farnesina concretizza ogni giorno il suo impegno a rendere l'Italia sempre più forte, presente e apprezzata nel mondo. Per farlo abbiamo scelto di puntare con decisione su tecnologia e innovazione. Presto ci doteremo di nuovi e più efficienti servizi digitali a favore dei nostri connazionali oltre confine. Al tempo stesso vogliamo ulteriormente rafforzare il loro regame morale ed emotivo con il nostro Paese e la nostra cultura. Ho potuto constatare in ogni occasione all'estero quanto forti siano tali sentimenti tra le nuove generazioni e i discendenti di quanti hanno lasciato l'Italia nel corso dei decenni. Concludo ringraziando tutti i comites nel mondo e il Consiglio Generale degli Italiani all'estero per la costante attenzione dedicata ai bisogni dei nostri connazionali oltre confine. Si tratta di un lavoro prezioso e insostituibile che la Farnesina continuerà a sostenere e valorizzare.